prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente un grazie dal profondo del cuore nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen o dio fonte di ogni bene comunica a noi la forza del tuo spirito che animò il diacono e martire vincenzo e lo rese invincibile in mezzo ai tormenti perché la nostra fragile umanità sia sostenuta dalla potenza del tuo amore per il nostro signore gesù cristo tuo figlio che è dio e vive e regna con te nell'unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli amen se ti chiami come il santo di oggi tantissimi auguri e per tutti la benedizione di dio raggiunga voi e le vostre famiglie ciao e a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti